Torna all'alba della legalità a Santa Margherita Belice, domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21 al terzo cortile del Palazzo Filangere di Couto. La manifestazione è giunta all'ottava edizione, organizzata da Libera, dall'Associazione Antimafia Giuseppe Paolo Borsellino, con il patrocinio dei comuni di Santa Margherita, Montevago e della Regione Siciliana. L'obiettivo è diffondere la cultura della legalità, soprattutto tra i giovani, ma non solo, come ci spiega l'ideatrice dell'iniziativa Antonella Borsellino, sorella e figlia di vittime di mafia. L'iniziativa che noi ogni anno facciamo in estate è quasi la fine di tutto un progetto iniziato durante l'anno, sia nelle scuole con i protocolli di intesa che abbiamo, gli incontri con i ragazzi, incontri con la società civile, incontri nel territorio. Quindi poi si arriva all'estate per dare anche un momento di, diciamo, tra virgolette, di relax, incontrando delle persone che ci possono dare tanto, raccontandoci la loro vita nella quotidianità, che siano magistrati, giornalisti. Quest'anno abbiamo il figlio di un collaboratore di giustizia, cugino di Matteo Messina Denaro, che ci racconterà, è del territorio, ma non tutti conoscono la sua storia, ci racconterà come lui è riuscito a convincere il padre, cugino di Matteo Messina Denaro, da parte della moglie, a collaborare con la magistratura. Poi quest'anno sarà con noi il procuratore capo di Palermo, Roberto Scarpinato, che racconterà per la sua lunga carriera come ha svolto il suo lavoro. Poi ci sarà Alessandra Sciurba, lei è la portavoce della nave mediterranea, che, come dalla cronaca abbiamo visto, hanno salvato migliaia di vite umane, quelle vite umane che scappano dai loro paesi per tanti motivi, perché sono in guerra, perché è invivibile stare in questi paesi, che cercano una salvezza, salvezza che poi molte volte non è. Quest'anno sarà con noi Sandro Ruotolo, che io ho conosciuto negli anni 92, quando è successo l'omicidio dei miei, che c'è stato molto vicino, non solo come giornalista, ma come persona, quindi rincontrarci per raccontarci dopo tutti questi anni. Sono passati, considerate, 27 anni dall'omicidio dei miei e quindi sarà molto emozionante. Poi abbiamo Aaron Pettinari, lui fa parte di un giornalista che scrive su Antimafia 2000, l'ultimo libro parla delle grandi stragi del 92. Poi abbiamo una scrittrice messicana, Annabelle Hernandez, lei è andata via dal Messico, perché sulla sua testa pendeva una taglia dei cartelli della droga. Quest'anno abbiamo di nuovo invitato i ragazzi dell'istituto comprensivo di Santa Margherita e di Montevago a partecipare a un, far virgolette, concorso. Hanno preparato degli elaborati e saranno premiati durante la serata. Anche l'istituto amato veterano di Sciacca parteciperà, hanno girato i ragazzi un video sul fenomeno del pizzo. Quindi il nostro principale obiettivo è proprio coinvolgere i ragazzi del territorio e renderli protagonisti.